ricevimento di nozze oggi ve ne voglio parlare perché ho riscontrato che ci sono due tendenze che stanno andando in direzioni diametralmente opposte quindi la via di mezzo che prima era quella più scelta da tutti in realtà sta un po' scomparendo e si sta scegliendo una delle altre vie quindi oggi ve le racconto poi mi farete sapere in quale delle due vi ritrovate di più sono Roberta Patanè e organizzo esclusivamente matrimoni con l'accento attraverso i miei video ogni venerdì do consigli a tutte le coppie che stanno organizzando il loro matrimonio e racconto anche qualche curiosità come faccio nel video di oggi se quindi vi state per sposare iscrivetevi al canale youtube se siete delle spose andate sul sito matrimoni con l'accento punto it e cliccate sul pulsante unisciti a noi così entrerete a far parte del magico mondo delle spose con l'accento come dicevo parlando di ricevimento di nozze si stanno verificando due tendenze sempre più marcate che vanno in direzioni opposte da un lato abbiamo le coppie che cercano il ricevimento come una volta cioè il ricevimento molto elegante ma quando le coppie di oggi cercano un ricevimento elegante vuol dire che vanno proprio alla ricerca del dettaglio di qualità altissima per cui c'è uno studio per esempio della mise en place con tovagliati di pregio sottopiatti particolari posateria bicchieri centrotavola molto importanti quindi diventa un matrimonio anche di un po di ostentazione per far vedere che si sta facendo una cosa veramente bella veramente curata veramente tanto tanto elegante e c'è quasi una cura maniacale del dettaglio che è bellissima da vedere non la sto criticando assolutamente a volte prende un po la mano nel senso che si va più a guardare questi aspetti rispetto magari alla sostanza che è mi sto per sposare e sto per fare un passo molto importante ma questo è un altro discorso e si va a cercare quindi la location super esclusiva per ambientare un matrimonio da favola ecco molte coppie vanno a cercare la favola spendendo anche dei budget importanti dall'altra parte abbiamo invece delle coppie che vanno a cercare un qualcosa di estremamente semplice estremamente rilassato non gli importa niente di tutti gli aspetti di design quello che vogliono è creare una festa insieme a un gruppo di invitati spesso anche raccolto con il quale magari vogliono organizzare un wedding weekend per vivere un'esperienza insieme agli invitati quindi sono molto più interessati all'aspetto per esempio dell'intrattenimento di sorprese da fare per i propri invitati cose da fare insieme oppure il luogo giusto dove si possa godere di bel tempo insieme che magari abbia la piscina per fare appunto un ricevimento in piscina oppure il brunch del giorno dopo quindi sono totalmente disinteressati alla parte di design quindi alla wedding suite per esempio capita spesso che le coppie di questo tipo dicano no ma a me delle partecipazioni non importa nulla della wedding suite non mi importa nulla di fiori non mi importa nulla ecco si stanno prendendo queste due strade io sinceramente mi dissocio un po da tutte e due a dir la verità perché è vero che nella bellezza nella cura del dettaglio c'è una magia incredibile però non deve arrivare a togliere importanza allo stare con i propri ospiti alla bellezza di vivere un momento importante insieme ai propri ospiti non si può stare concentrati solo sulla bellezza estetica dall'altra parte anche la bellezza estetica aiuta a creare un'atmosfera particolare un momento unico momento originale per esempio la wedding suite si può utilizzare in maniera intelligente usarla come una coccola per i propri ospiti perché magari dietro al menu che si mette sul tovagliolo si può scrivere una bellissima dedica personalizzata per ogni invitato oppure con i fiori si può pensare di fare degli omaggi per propri invitati quindi non è detto che la cura del design non sia importante si può utilizzare bene cioè se il budget c'è l'unione delle due cose tornare un po a vivere la via di mezzo fra le due cose può essere la soluzione più interessante io se mi seguite lo sapete organizzo matrimoni con l'accento per me un matrimonio con l'accento ha dei fondamenti che sono molto importanti il primo è la personalizzazione sulla coppia la personalizzazione passa anche attraverso il design anche attraverso la wedding suite io le ritengo molto importanti per dare quel qualcosa in più ad un matrimonio ma anche l'eleganza però intesa come raffinatezza il matrimonio secondo me non deve mai essere ostentazione di lusso per dire guarda io che cosa posso fare la raffinatezza è sempre la chiave migliore l'eleganza migliore sta nella semplicità però anche la cura dell'ospite quindi quello che piace alle coppie del secondo tipo del secondo trend cioè di far divertire gli invitati fargli delle sorprese farli stare bene un bel intrattenimento è altrettanto importante quindi un matrimonio con l'accento invece cerca di riunire queste due tendenze che onestamente si stanno veramente allontanando tantissimo quindi pensateci non vi fate prendere dall'ansia di voler curare una cosa sola entrambe le cose si possono fare e si possono fare bene questa è una tendenza generale poi a breve di solito lo faccio a gennaio pubblicherò anche video con i trend più specifici perché quelli vengono fuori verso la fine dell'anno quindi ve li racconterò in un video ad hoc inoltre un trend importantissimo deriva dal colore dell'anno che è stato svelato ieri e lo trovate nelle mie storie su instagram quindi seguitemi anche lì noi ci vediamo al prossimo video ciao